Episodio 32 del corso di VBA, oggi vediamo come possiamo lavorare con i workbooks e i workbooks, ricordiamoceli, sono le cartelle di lavoro, quindi dall'inglese all'italiano molto facile. La cartella di lavoro, altro non è che il singolo file, quindi ogni file di Excel è una cartella di lavoro. Cominciamo partendo proprio dalla base, se guardate qua in alto nel nostro progettino abbiamo questa cartella di lavoro, vedete? E questa cartella di lavoro ci mostra una serie di proprietà, quindi già possiamo capire che non solo possiamo andarle a modificare da qui le proprietà, vedete? Quindi possiamo farlo in modo manuale, ma possiamo farlo anche in modo programmatico, quindi così come le possiamo andare a modificare le possiamo anche richiedere. Come andiamo a lavorare con i workbooks? Abbiamo due modi, il primo l'abbiamo già visto ed è application.activeworkbook. Mettere avanti application per intenderci in realtà sapete che si può mettere, quindi solo active workbook. Se io faccio così e vado su .name ottengo corso Excel VBA che è esattamente quello che vedete qua in alto a sinistra. Quindi questo è un modo per arrivarci, l'altro modo in cui possiamo arrivarci è banalmente prendere workbooks. Prendiamo ad esempio il primo, vabbè, che sappiamo che ne ho solo uno aperto. Se vado a fare .name ottengo il mio workbook. Nel primo andiamo a prendere solo quello attivo, quindi capite che poi con VBA possiamo attivare un workbook. Se ne abbiamo più aperti, prendere active workbook e lavorare con quello, altrimenti possiamo passare tramite workbooks, prendere il numero oppure possiamo fare anche così, fatemi togliere questo, e passare direttamente dal nome. Quindi faccio così, tac, faccio invio e ottengo lo stesso risultato. In questo caso mettere il nome per ottenere il nome non ci serve a niente, ma era per dirvi che possiamo arrivarci sia lato numerico di indice che lato nominale. Adesso che sappiamo come prendere i vari workbook, possiamo andare a modificare eventuali proprietà. Giusto per gradire una cosa che ci potrebbe servire, potrebbe essere vedere se è saved. Quindi se io faccio così, faccio saved, invio, vedete che me lo dà come falso, perché effettivamente non è salvato. Se io vado a modificare e poi da file salvo, e adesso vado a richiederlo, vedete che ottengo vero. Quindi ad esempio, una cosa che potremmo andare a richiedere in certe circostanze, è vedere se il file è salvato o meno. E lo vedete che è qua sotto, dove c'è saved, vedete, ci dà in tempo reale quello che è la condizione di salvataggio. La stessa cosa che abbiamo visto per saved la possiamo fare per name, come abbiamo fatto ad inizio video, e per tutte le altre proprietà. Adesso arriviamo a qualcosa di un po' più interessante, e vediamo come possiamo effettivamente lavorare con altri workbooks. Quindi non prendere solo le proprietà o eventualmente mettere una password, ma facciamo qualcosa di un po' più avanzato. Ad esempio, potremmo voler contare quanti sono i workbook che abbiamo aperti, quindi punto di domanda. Vado a fare workbooks, senza andare a prendere qualcuno in particolare, quindi workbooks così, punto count, eccolo qua. E se io faccio invio, vedete che al momento ne ho uno. Vado ad aprire un altro workbook, vedete che ho un'altra finestra aperta, la tengo sull'altro schermo perché non ci interessa. Se faccio count, vedete che ho due, quindi possiamo andare in qualsiasi momento a capire se abbiamo uno o più workbook aperti, perché se magari stiamo lavorando con workbooks così e sappiamo che ne abbiamo solo uno, prendiamo sempre il primo e siamo a posto. Ok, oppure prendiamo sempre quello attivo. Le possibilità sono tante. Tornando invece sopra, cominciamo ad aggiungere magari un workbook. Quindi facciamo workbooks, punto, add. Se faccio F5, mi è comparso, ve lo sposto, un altro workbook. Vedete? Eccolo qua. Quindi questo è il nuovo workbook che mi è arrivato. Se premete sullo spazio, noterete come add ci dà la possibilità di partire da un template. Quindi volendo potreste andare a mettere qua vicino a template quello che è un percorso per far riferimento ad un altro workbook che già avete. Di conseguenza andare a creare un nuovo workbook partendo da quello come template base. Una volta che abbiamo aggiunto il nostro workbook, che vedete che è qua a lato, vedete? È sempre qui, ricordatevelo. Una volta che abbiamo aggiunto il nostro workbook, cosa potremmo fare? Potremmo salvarlo. Quindi potremmo dire workbooks, prendo il 2, che è l'altro. Anzi, andiamola a vedere. Facciamo workbooks2, tac, così, punto, name. Scusatemi, questo devo commentarlo. Invio su questo. Vedete che otteniamo cartel 5. Cosa potremmo fare? Innanzitutto potremmo assicurarci di averlo salvato. Quindi per salvare un workbook ci basta fare workbook2.save.f5 ed è stato salvato. Vi faccio vedere che possiamo andare qui. Scrivo a caso. E se andiamo a vedere workbook2.saved. Facciamo invio, vedete che è falso. In questo momento faccio partire questa macro e se vado a rifar partire il comando qua sotto mi dà vero. Quindi con workbook, il numero del workbook che ci serve, o nome, più save, lo andiamo a salvare. Altrimenti potremmo fare anche save as, se volete. Quindi, sempre per avere suggerimenti, punto, save as. Facciamo lo spazio. E come potete vedere, qua ci danno una serie di opzioni aggiuntive. Quindi potremmo avere la password. Innanzitutto abbiamo il nome del file, il formato del file. La password, se vogliamo che sia solo ridolli, quindi può essere solo leggibile e non modificabile. Abbiamo una serie di aggiunte che possiamo fare. Noi ci limitiamo a salvarlo nello stesso percorso che abbiamo qua. Quindi dalla cartella 5, vedete? Da questa cartella 5, dove qua abbiamo rrrr, voglio andare a creare di base una copia. Quindi save as. e prendo workbook2.path, questo qua mi serve. Quindi workbook2, mettiamo magari file name, file name, due punti, uguale. Andiamo a capo che se no non ci stiamo. Perfetto. Qua gli dobbiamo aggiungere un nome. Quindi end. Apriamo, slash, e poi mettiamo il nome del file. Nuovo file, punto, xlsm, perché magari potremmo volerle macro. Dopodiché andiamo a specificare il formato. Quindi file format, due punti, uguale. Vado ancora a capo. Perfetto. Vado qui a capo. E come file format, andate qua, mettete uno spazio. E scriviamo xlopenxmlworkbookmacroenabled. Quindi cosa stiamo facendo? Lo stiamo salvando con questo nome, ma il formato, gli stiamo dicendo di utilizzare il formato delle macro. Altrimenti questo potrebbe non bastare. Facciamo F5. Vedete che è comparsa una nuova cartella, vedete? È comparsa una cartella nuovo file. Ed eccolo qua, vedete che è stato automaticamente risalvato. Come nuovo file. Perfetto. E abbiamo visto anche questo. Quello che voglio farvi vedere adesso è come possiamo attivare la nostra cartella di lavoro. Vedete che io qua, al momento, ho messo il cursore su questo workbook. Ma io posso andare a prendere workbooks. Vado a prendere il 2. Che so che è l'altro. Punto. Activate. Faccio invio. Vedete che mi è scomparso il cursore. Perché? Perché il cursore è andato. Eccolo qua, lo vedete? È finito sull'altra cartella di lavoro. Ora io vado a chiudere questo. Perché? Perché per concludere voglio farvi vedere come possiamo aprire un workbook. Quindi possiamo andare a fare workbooks.open. Apriamo e dentro come file name vado a mettere workbook 1. Visto che è già aperto, sono nella stessa cartella documenti. Ci potreste arrivare in un altro modo, ma per ora faccio così. Quindi prendo workbook 1.path. and vado ad aggiungere slash nuovo file punto xlsm f5 e vedete che automaticamente mi ha aperto il nuovo file con la scritta che io avevo messo qua. Cosa possiamo fare? Possiamo andare a chiudere anche i vari workbook o prendiamo il singolo workbook. Quindi potremmo fare workbook magari 1 punto close. Faccio invio. Vedete? Mi chiede di salvare. Io salvo. Vedete che ha chiuso tutto. Riapro e giustamente mi chiede la password di prima che spero sia qwerty. Perfetto. Oppure potrei passare direttamente da workbooks punto close. Faccio invio e ha chiuso tutti i workbooks. Ok? Quindi se lavoriamo, ricordatevi che se lavoriamo su workbooks stiamo lavorando su tutti praticamente. Se invece lavoriamo su workbook così oppure col nome oppure sulla singola variabile. Che è uguale ad un workbook che comunque è uguale ad una cosa del genere. Quasi sempre o col nome o activate o quello che volete. Stiamo lavorando su una singola cartella di lavoro. Quindi direi che per oggi è tutto. Nel prossimo video andiamo a vedere come possiamo lavorare con i singoli fogli contenuti dentro la cartella. Quindi con i worksheet. A tra poco.